Si è appena concluso l'allenamento congiunto tra il bitonto del qui presente Mr. De Luca e il bitrito Norba di Mr. Carella. Risultato finale 7 a 0. Mr. partiamo subito dallo schieramento di partenza. Qualche novità, hai rimescolato un po' le carte oggi rispetto alle ultime uscite. Come ci siamo detti anche i microfoni spenti, non è importante il risultato, però cerchiamo di giustificare qualche scelta dal primo minuto, come ad esempio Biason fuori, Lattanzio fuori, gente che ha davvero giocato tanto in questa pre-season fin qui. Sì, rispetto alle ultime amichevoli dove si andavano un po' ad incastrare nel fine settimana, o comunque negli allenamenti precedenti erano più delle rifiniture, questa amichevole viene dopo due allenamenti pesanti del martedì e del mercoledì, anche perché ci stiamo avvicinando alla settimana tipo finalmente. Quindi l'allenamento del martedì e del mercoledì, doppia seduta, con un lavoro di forza e un lavoro con palla ad alta intensità, si è fatto sentire. Abbiamo optato insieme a tutto lo staff e anche allo staff medico di dare un po' di riposo a qualcuno che magari aveva fatto più minutaggio. Quindi non abbiamo nessun tipo di problema, però le scelte nascono anche da questo e abbiamo dato anche la possibilità a tutti quanti, soprattutto ai più giovani, nell'ultima parte della gara di potersi mettere in mostra. Quindi si è vista una squadra all'inizio un po' più pesante, fino a che magari smaltisse i carichi di lavoro anche degli allenamenti. Facci complimenti comunque al vitrito perché si è dimostrato una squadra seria, organizzata come sapevamo del resto, perché è una squadra ben allestita per il campionato di promozione e magari attendevano anche il ripescaggio in eccellenza. Quindi è una squadra che ci ha messo a dura prova, a cui faccio i complimenti. Ripeto, le scelte sono dovute a tutto questo discorso di minutaggio che abbiamo fatto, anche quando Santoro ha avvertito un piccolo fastidio per precauzione, diciamo l'abbiamo tirato fuori e siamo stati, tra virgolette, costretti, anche se volevamo gestirlo in modo diverso, a far fare ancora minutaggio all'attanzio, anche se poi l'abbiamo ritirato fuori. Sì, spendo anch'io dietro il suggerimento del mister, due parole per questo vitrito norma. Ricordiamo il primo tempo è stato chiuso sullo 0-0, da parte di una squadra sì iscritta al campionato di promozione, ma con ambizioni, una struttura societaria e come ha sottolineato l'allenatore del bitonto De Luca, con speranze di ripescaggio in eccellenza fino all'ultimo che purtroppo però sono state disattese. Mister ha nominato i giovani, sono andati a segno oggi Zaza, Guarnaccia, prodotti diretti del vivaglio del bitonto, ma vorrei porre l'accento anche sulla prima presenza, prima apparizione di Caro Tenuto, l'ultimo arrivato portiere classe 2003, e anche durante la partita a rotazione le prestazioni sono entrate in campo anche gli altri due portieri, Martellone e Bevilacqua. Questa scelta delle annate nei portieri, presumiamo siano state mirate, perché è arrivato un 2003, Lonoce portiere di assoluta garanzia è un 2000, Martellone 2001 fa parte del gioco delle quattro annate degli under che dovranno essere schierati durante il campionato. Sì, non ci siamo lasciati aperte un po' tante soluzioni, oggi Lonoce non ha giocato solo perché aveva un po' di febbre, nulla di preoccupante, quindi non è collegato al Covid ma più magari ai cambi di temperatura dei giorni precedenti e quindi aveva un po' di febbre, ma solo dovuto a questo e quindi per precauzione l'abbiamo tenuto comunque a riposo. Abbiamo aspettato anche Martellone perché aveva avuto un piccolo fastidio durante il ritiro precampionato e oggi è ritornato facendo almeno una ventina di minuti per poi lasciare spazio anche a Bevilacqua e quindi c'è la possibilità di optare per più soluzioni, abbiamo aperto anche questa soluzione importante con Carotenuto che è un ragazzo di assoluto valore che si va ad aggiungere ai nostri portieri che stanno lavorando in modo eccezionale con il nostro preparatore Gianni Iurino, quindi anche la situazione ai portieri ci permette di avere più soluzioni come questo campionato comunque ci indica per il discorso degli under. Bene anche i più giovani, vi ho detto prima chi è andato in campo, è una soddisfazione anche per i nostri ragazzi del 2003 come Zaz e come Guarnaccia andare anche a segno, però stanno crescendo a mio avviso tutti quanti, anche chi non ha fatto gol ma a tutti i ragazzi che sono andati in campo, quindi siamo contenti di questo i ragazzi devono continuare soltanto a lavorare duramente per poter ottenere poi dei risultati importanti perché non hanno fatto assolutamente nulla ma la loro crescita sarà costante se continuano a lavorare con questa umiltà la vedremo soprattutto alla fine dell'anno speriamo di dare alla società dei ragazzi che sono pronti anche per categorie più importanti. Passo al volo la parola a Mare Romano, collaboratore di Data Sport e di Bitonto Channel creatura ricordiamo ormai prossima all'esplosione mediatica. Un test assolutamente positivo contro, come avete già detto precedentemente, una squadra che forse era già pronta per l'eccellenza. Aspetti positivi, la linea difensiva quest'oggi molto 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 attenta e volevo sottolineare la prova anche di Taurino che è entrato praticamente in quasi tutte le azioni forse è mancato un po' di precisione ma comunque si vede una fase già increscendo ma l'equilibrio che cerchi lo stiamo, sta arrivando pian piano? Diciamo che l'equilibrio è già arrivato, io ho la fortuna di avere a disposizione tanti giocatori tra under e over e quindi posso anche insieme allo staff fare una valutazione sulle condizioni di tutti quanti così come dicevamo prima anche la possibilità di non rischiare qualche ragazzo che è un po' più carico che magari ha avuto qualche contusione che quindi io posso gestire in questo modo mi permette di stare tranquillo e mandare in campo chi è al 100% e questo verrà fatto non solo, è stato fatto non solo nelle amichevoli ma verrà fatto anche durante il campionato. Anche lo stesso Taurino è sicuramente un ragazzo pronto, sappiamo le sue caratteristiche, una rapidità e un cambio di passo che difficilmente si vedono in questa categoria e quindi le sue accelerazioni sono ben evidenti a tutti e sono presenti in tutte le azioni non solo in quelle che facciamo gol ma anche in tante altre azioni è un ragazzo che deve continuare a lavorare in questo modo, non si è mai fermato si è fermato solo due giorni quando ha fatto il vaccino questa è una cosa nuova anche per noi tecnici nella gestione di questo è successo a Montinaro in questi giorni e oggi è ritornato in campo dopo due giorni fermo quindi diventa una gestione per noi nuova anche questa dei vaccini devono continuare i ragazzi come gli under, come ho detto prima per gli under a lavorare tutti quanti in questo modo mi interessava anche non prendere gol perché abbiamo concesso poco tranne quella punizione e il palo degli avversari però mi interessava dare una solidità che la squadra piano piano sta avendo noi abbiamo già degli equilibri e un'idea già ben definita da tanto tempo possiamo anche variare qualcosa perché in questo mese di lavoro abbiamo anche provato diverse soluzioni che possono servire nel campionato però abbiamo un'identità chiara che i ragazzi stanno mettendo in atto Un'ultimissima considerazione mister, altrimenti mister Gigi Naclaro ci lincia per l'ennesima volta la mia sensazione personale è che questa squadra dia il meglio di sé quando i ritmi sono comunque alti, sostenuti per la qualità, per il giro palla e proprio per le caratteristiche soprattutto sugli esterni di alcuni elementi oggi sicuramente il gran caldo non ha aiutato per te è proprio questa la chiave di lettura del bitonto targato De Luca 2021-2022 cioè abbassare i ritmi per quanto possano farlo i tuoi uomini soprattutto lì in mezzo al traffico però potrebbe diventare un rischio, un pericolo abbassarli troppo Noi in allenamento sia io che tutto lo staff siamo dei martelli nel senso che cerchiamo di spingere i ragazzi a fare degli allenamenti ad alta intensità riprodurre il più possibile la gara quindi fosse per noi e anche per i ragazzi stessi l'obiettivo sarebbe sempre quello di andare al massimo delle nostre possibilità poi ci sono momenti e letture di una partita dove si può anche in alcuni momenti far muovere la palla avere più possesso per far correre gli avversari oppure facciamo l'esempio anche della partita di oggi una squadra molto ben organizzata nella fase di non possesso e che ci aspettava nella loro metà campo bisognava pure trovare lo spazio alle loro spalle e quindi tirarli fuori quindi devono essere bravi i ragazzi sulle tante soluzioni che noi abbiamo a scegliere il momento giusto di quando accelerare, di quando paleggiare, di quando addormentare la gara perché poi sappiamo che molto dipende dal risultato della gara quindi fosse per noi, per qualsiasi allenatore, non solo per me vorremmo vedere sempre una gara ad altissima intensità però sappiamo, come vi ho detto prima, dei carichi di lavoro e soprattutto, se facciamo riferimento a questa amichevole al lavoro che abbiamo fatto martedì e mercoledì che non avrebbe reso la squadra brillante oggi Grazie mister, buon proseguimento di lavoro Grazie, buona serata Buon pomeriggio a tutti coloro che ci hanno seguito e ci vediamo per i prossimi appuntamenti su Radio Doppio Zero e sul prossimissimo Bitonto Channel Buon pomeriggio